Gara senza storia e ottavo successo stagionale in archivio. Il Corato continua a vincere, lo fa con merito sul terreno amico del Coppi di Ruvo di Puglia, superando con un netto 3-0 il San Marco, penultimo in graduatoria. La squadra di Olivieri domina per 90 minuti, concedendo pochissimo agli ospiti. Mandiamo con ordine, inizio di gara, tutto di marca nero-verde. Al quinto è già vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Giannicello svetta più in alto di tutti e insacca l'incolpevole Musco. 1-0 è Corato, vicinissimo al raddoppio al ventunesimo con questa splendida girata al volo di Daiello. Sfera che si stampa sulla traversa. Il San Marco Sornione prova a reagire al trentesimo alla grande occasione per il pari. Il direttore di gara concede calcio di rigore per un dubbio fallo di mani in area nero-verde. Dal dischetto si presenta Ruggeri a Dario, intuisce l'angolo e blocca. Scampato il pericolo, il team di Olivieri si rende nuovamente pericoloso. Con il colpo di testa di diritto al trentatreesimo. Sfera di un soffio a lato. Si va a riposo con il Corato avanti 1-0. Nella ripresa è sempre gara a senso unico e al quarantanovesimo arriva il raddoppio dei padroni di casa. Bozzi sfrutta un perfetto cross dalla destra e di testa insacca sotto la traversa. 2-0 è gara in discesa per la squadra nero-verde. Al cinquantaduesimo destro dai quindici metri di Bozzi. Palla di poco a lato. Al sessantaquattresimo sempre lo stesso Bozzi di testa. Manda di poco alto sopra la traversa. Un minuto più tardi. Tiro a giro di diritto dal limite. Musco respinge con un colpo di Reni. Al settantatreesimo arriva il tris. Assis di Telesca e conclusione perfetta di Bozzi che firma il 3-0. E' la sua personale doppietta. Nel finale il Corato protesta per un netto fallo di Musco in aria non sanzionato dall'arbitro con il penalty. Finisce 3-0 per i nero-verdi che restano in scia alla capolista Barletta. Prossimo avversario nel big match di domenica. Mentre giovedì sarà tempo di esordio nella terza fase della Coppa Italia sul campo del Sansevero.